Dei manifesti per invitare la cittadinanza a vaccinarsi, aderendo così alla campagna sanitaria del 2016-2017, sostenuta dal Ministero della Salute. Su tali manifesti sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi o Dontoiatri della provincia di Caltanissetta. L'Ordine di Caltanissetta, infatti, promuove una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione vaccinale attraverso uno slogan Non lasciarti influenzare, vaccinati. Il messaggio dell'Ordine provinciale parte da quello che è stato l'Ordine Nazionale, la Federazione Nazionale degli Ordini Medici. L'8 luglio abbiamo firmato tutti e 106 i presidenti nazionali un documento pro vaccinazioni. Tutto ciò per contrastare quello che è un impatto anche mediatico da parte di gente che non ha nessuna preparazione scientifica e che millanta problemi nelle vaccinazioni, cioè conseguenze che in effetti o effetti collaterali che non ci sono assolutamente, o meglio, sono proprio risicati rispetto a quello che è il vantaggio invece della vaccinazione. Il vantaggio della vaccinazione è quello di preservare. Siamo arrivati con questa popolazione anche a 90 anni, a 100 anni, proprio perché ci sono state le vaccinazioni che hanno debellato malattie che negli anni passati, in maniera epidemiologica, erano molto importanti e che addirittura portavano ad epidemie e a morti con distruzione di intere comunità. In questo momento è il periodo giusto per vaccinarsi contro l'influenza, ma le vaccinazioni, soprattutto nei bambini, vanno fatte durante tutto l'anno, secondo quelli che sono i calendari che i pediatri di base, i medici di medicina generale, che ringrazio ufficialmente proprio per la campagna di prevenzione che stanno facendo, consiglieranno ai genitori.